ciao ragazzi che puntata emozionante del grande fratello quella di ieri sera sei pronto per scoprire tutti i dettagli e le sorprese che ci hanno regalato gli inquilini della casa più spiata d'italia la serata è stata davvero intensa con i concorrenti che hanno espresso le loro preferenze su chi mandare al televoto tra massimiliano varrese simona tagli federico massaro alessio falsone grecia colmenares marco maddaloni e paolo masella ebbene sì con solo il 7 per cento dei voti massimiliano varrese si è classificato all'ultimo posto non possiamo non parlare della brutta lite che ha avuto con letizia petris l'attore sembra aver sofferto molto per la nomination e per il televoto eliminatorio della prossima settimana ma le sorprese non sono finite qui marco maddaloni non troppo convinto del prolungamento del programma fino a fine marzo ha deciso di abbandonare la casa per motivi personali un momento davvero inaspettato che ha lasciato tutti i concorrenti senza parole la sua uscita improvvisa ha creato molta confusione tra gli inquilini con nessuno che sapeva dove fosse finito momenti concitati che hanno reso la serata ancora più avvincente che succede a marco dove si sarà nascosto le domande si sono moltiplicate lasciando tutti con il fiato sospeso insomma una puntata ricca di colpi di scena e di emozioni non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà la prossima settimana restate sintonizzati per non perdervi nemmeno un dettaglio alla prossima grazie a tutti